Il presidente prima è soddisfatto non solo del risultato, anche perché l'investimento noi ce lo siamo fatti ritornare in 8 mesi, quello che abbiamo speso e ce lo siamo ripagati in 8 mesi. Abbiamo iniziato l'analisi a ottobre del 2011, fine ottobre se non ricordo male perché il contratto con i signori l'abbiamo firmato intorno alla metà di ottobre. Abbiamo iniziato a preparare le nostre attività da ottobre fino a dicembre del 2011, quindi due mesi e mezzo, tre. Il test l'abbiamo fatto in corsa, man mano che facevamo l'analisi, prentavamo anche i test, tutti i test, quindi se l'analisi precedente dei flussi, delle locazioni erano tutte corrette, compresi i test di trasferimento di interfaccia, la formazione, questa è una cosa che tutti dicono eh ci vuole la formazione, giorni, mesi di formazione, noi abbiamo detto la formazione la facciamo quando iniziamo con le persone, quindi parte essere formato io e un'altra figura il capo del reparto, il capo del magazzino, il 27 di dicembre era un mercoledì se non ricordo male, mi ha detto bene si parte, bene si parte, da 27 al 31 abbiamo inventariato tutto il magazzino applicando questa bellissima soluzione che avevano loro delle etichette UBC dove legavamo l'etichetta il prodotto e la quantità e noi il 2 di gennaio dell'anno nuovo siamo venuti qua e abbiamo praticamente iniziato a lavorare con Stop System in ricevimento, in spedizione, in ricevimento della produzione, tutto quello che è l'attività, senza difficoltà abbiamo fatto una scelta di nuovo gestionale, siamo adatti su Micro Dynamics Nard, e riusciti grazie a Replica con le sue diciamo già interfacce pronte e grazie al lavoro svolto al nostro interno a interfacciarsi avere praticamente due sistemi che mediamente ogni minuto dialogano fra di loro. Che cosa abbiamo ottenuto alla fine? Maggiore efficienza di attività del magazzino, più 40%, forse anche di più, però solo come numero di test. Eliminare gli errori, questo è stato un'altra di quelle cose per noi che era fondamentale, il meno 80%. Grazie a questo software anche la mappatura certa di quanti prodotti avevamo e dove li avevamo e più siamo riusciti a compattare, a razionalizzare anche attraverso le procedure interne di Stop System, Refilling per esempio, ottimizzare quello del nostro magazzino, migliorare il servizio al cliente. Grazie a tutti.